nello stesso tempo ho letto il doppio ma anche la visione della pagina era cambiata totalmente da ieri a oggi quanto tempo impieghi ogni giorno nella lettura, pensa mail whatsapp, per chi studia ancora di più veramente dedichiamo almeno due o tre ore al giorno alla lettura senti dopo un'ora e mezza cosa mi dicono queste persone è stata una soddisfazione grande, hanno frequentato un'oretta e mezza il giorno dopo hanno rifrequentato e senti cosa mi stanno dicendo, è la soddisfazione più bella ascolta, perché i risultati sono le cose che contano di più, non le parole e te lo dico forte di trent'anni, ascolta qui ecco qua ho detto sono rimasta impressionato stavo leggendo ho detto sono rimasta impressionato nello stesso tempo ho letto il doppio ma anche la visione della pagina era cambiata totalmente da ieri a oggi e soprattutto avendo gli occhiali io ieri con quest'occhio faticavo oggi non mi dà assolutamente fastidio rifare gli esercizi cioè è impressionante quindi più pratichi anche penso se uno si impone di fare gli esercizi fai un salto quantico nella lettura incredibile cioè ti rendi conto dopo un'ora e mezza cosa è successo a questo signore ecco perché ti invito a un mini corso di due ore e mezza perché la prima il primo periodo viene utilizzato per fare un test per misurare quanto tu leggi per misurare la falcata del tuo occhio per poi vedere immediatamente i risultati pensa dopo solo un giorno cosa ho ottenuto beh io sono partita da questo libro qui cioè non mi sembra piccolino io per ogni esame che avevo all'università avevo mediamente dalle 1200 alle 1500 pagine ti aspetto vieni anche tu in una sera a migliorare il campo visivo migliorare la flessibilità dell'occhio e raddoppiare la velocità ci metto la faccia da 30 anni e penso che tu senta la sincerità e l'amore con cui te lo dico ti aspetto ciao 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 ciao